eccoci qua ciao adriano buonasera ecco di buonasera prego come va insomma è arrivato un po di prima terra si è scaldato un po mi sembra che vada sempre peggio sul fronte orientale ma vabbè sempre peggio cosa è successo finché dormivo ma insomma voglio dire questi sempre peggio le macchie rosse sulla carta dell'ucraina si stendono e da quello che ne ho capito oggi la posizione dei governanti nato di otan è più o meno obama cioè c'è una linea rossa se riusciamo a capire che c'è stato un attacco biochimico o nucleare risponderemo a esattamente quello che ha detto obama può darsi che questa volta siano più determinati però voglio dire come minimo è riuscito a imporre erpuzione del cremlino che la base della trattativa è che alcuni pezzi di ucraina se li tiene lui probabilmente carchi probabilmente odessa forse di più no 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 lei mi sembra lei mi sembra dottor palma di un pessimismo unico per il momento l'unica città allora no no guardiamo i fatti sul terreno professore non si agiti professore che la sua telecamera poi si dobbiamo parlare nel senso che non si muova abbiamo abbiamo un adriano un po un po puntinista oggi andiamo per il puntinismo nel senso che la maniera in cui ci arriva qua è a puntini no io direi di no adriano non è che la situazione sia delle migliori però non è certo mezzo peggiorata dall'ultima volta che ci siamo sentiti l'attacco sul terreno russo è chiaramente bloccato sono riusciti addirittura a fare qualche contrattacco recuperare qualche chilometro quella odessa non l'impresa cioè l'unica città in cui sono entrati i russi in questo momento la povera disgraziata è cancellata mariupol io credo che nei fatti questi già avevano la crimea già avevano di fatto un pezzo di donbass ma voglio dire del loro obiettivo militare è come dire rendere questi cosiddetti fatti de jure e de facto cioè che ci sia un qualche accordo anche intermittente di pace che dice la crimea è russa se quello si ferma la e si calma cioè voglio i trattati di monaco hanno detto a hitler c'è un pezzo di cecoslovacchia che è tedesco i risultati li abbiamo visti comunque può darsi che abbia torto io a essere più pessimista se ho torto io molto meglio se il pessimismo viene sconfitto va bene per tutti anche per il pessimista medesimo per cui non è il caso di di agitarsi prego no non ci agitiamo non ci agitiamo volevo solo insomma cercare di capire le valutazioni sulla base dei fatti sul terreno insomma anzi mi pare che per il momento visto che putin non cede anche se è uscita la notizia che vuole finire tutto il 39 maggio perché vuole celebrare la grande vittoria nella nella grande guerra patriottica sì adesso ti si vede benissimo è vero quindi come vedete dipende molto a volte dalle connessioni ragazzi c'è molte proteste su microfoni questo è quello non ho modificato nulla per cui se si vede meglio ma infatti sto cercando di dire che spesso sia le oscillazioni alla qualità dell'audio sia le oscillazioni nella nella qualità dell'immagine dipendono da stati non controllabili dei soggetti che che state ascoltando va beh vedremo insomma a me pare che ci siano alcuni lievi motivi di speranza è palese prese forse fin dall'inizio no che la crimea è andata da lungo tempo poiché si debba riconoscere formalmente o meno se questo possa essere una condizione per impedire per evitare di dover continuamente combattere computi sul resto dell'ucraina lo decideranno gli ucraini la posizione nato mi sembra più 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 forte anche perché hanno migliorato la qualità degli armamenti che gli passano e almeno c'è stata finalmente la dichiarazione che esiste una linea rossa nota che prima linea rossa non c'era adesso almeno c'è ed è chiara esplicita uso di qualsiasi queste armi implica che non interverremo punto a quindi vediamo a vediamo vediamo un attimo vediamo la precedente amministrazione democratica ha detto esattamente la stessa cosa a proposito di aleppo in siria per cui spero anch'io che tengano la parola che hanno dato io l'impressione che quanto questi sono disfatte dal punto di vista della guerra di popolo tanto più forte la tentazione di dargli una botta chimica che li a terra proprio li a terra per davvero invece all'atterraggio dell'ucranese che non si rialzano più spero nel frattempo due cose di oggi di financial times c'è uno che non si sa come riesce a parlare quei quei capi di kagebe e questi dicono noi siamo pronti a colpire dobbiamo metterci d'accordo su come e quando ma questa roba si è rivelata una specie di boomerang contro gli interessi russi cioè ci guadagniamo troppo poco e fosse anche solo in termini di faccia di reputazione rispetto a tutti i paesi è pesante perché anche adesso trattare con l'india tutti tutti i paesi piccoli hanno paura di questo i paesi grandi molto meno perché invadere l'india o la cina è semplicemente non concepibile allo stato attuale delle conoscenze militari però neanche loro hanno detto è bene invadere l'ucraina per cui capisco che uno che fosse uno che avesse del potere russo comincia a dire beh insomma se questo veramente è matto inventiamo una vacanza non so dove a cortina a zermatt che vada via e che non rompa più le palle però vediamo prego mi interrovi sì sì devo dire che secondo me più continua e se il flusso di aiuto all'ucraina continua e se è vero quel che è vero e cioè che le loro le loro fabbriche mi veniva factories hanno cominciato a battere in testa a per quanto riguarda la capacità di produrre i pezzi sostituti eccetera eccetera il la probabilità la possibilità che una continuazione ulteriore della guerra porti in realtà a una crisi interna al sistema di potere russo a me non sembra zero non sembra neanche 100 per cento mai niente 100 per cento però non l'escluderei vedremo il mese di aprile sarà duro però può anche essere che il 25 aprile festeggiamo noi invece che i finti partigiani di adesso che vogliono questa cosa è difficile perché naturalmente è uno scontro mi ha dato molto impressione che stamattina ho letto economist che almeno qui esce il venerdì non sono gli stati uniti e nella sua disanima di tutto mi sono trovato stranamente a essere il preconizzatore di quel che c'è da leggere che è sorocchi in il giorno dell'opricic che è effettivamente divertentissimo solo che è scritto nel 2003 è come putin è un romanzo di quelli ma non so come si dice di fantastoria di fantascienza perché non c'è la scienza è proprio fantastoria cioè che nel 2028 c'è questa specie di nuovo regno di opricina diretta da un russo matto che è pagato dai cinesi però all'interno è matto vabbè comunque passiamo ecco quello c'è un altro discorso da fare perché per esempio io sono dell'opinione ma non finiamo più se io rispondo quindi lasciamo là io non sono per niente sono sempre meno convinto che l'atteggiamento muscolare con la cina porti ad alcunché di utile ma magari un giorno ne parliamo c'è una serie di libri una valanga dei libri sul tema che stanno uscendo con gli stati uniti che sono usciti tutti a insistere che praticamente siamo in guerra con la cina ecco su quello francamente io non mi ci ritrovo e credo che dovremmo fare il possibile per evitarlo e ci sono maniere per farlo vabbè orban è un problema se adesso allora avevo proposto adriano di far due chiacchiere su questo filosofo che io considero politicamente molto attuale per l'italia e anche per chi ama la libertà nonostante sia un tipo strano si chiama richard rorti è morto poco tempo fa a era comunque la si veda un personaggio notevole prodotto cose a mio avviso molto interessanti ci sono alcuni aspetti mi sono reso conto del suo pensiero che mi convincono assai un po' quelle solite cose avete capito in cui c'è uno che ti spiega le tue idee e dice ah cazzo ha messo in ordine quello che vagamente pensavo io e in particolare ora questo ho scritto anche cose piuttosto complicate breve rassegno è diventato famoso per un libro di sito la filosofia and the mirror of nature in cui si occupava di questioni chiamiamole filosofiche classiche a io ho chiesto adriano se ne aveva voglia di spiegarci un po' a quello che rorti racconta in credo il suo ultimo libro io almeno l'ho preso l'anno scorso che era uscito da poco una collezione di lectures fatte come si vede rirona in spagna poi aggiustato con qualche aggiunta ma fondamentalmente delle lectures a un livello di difficoltà notevole ma non altissimo e che erano un po' la sintesi se volete politica di della politica in senso di un po' ampio e elevato di di quello che il rorti andava pensando il rorti diciamo si autodefiniva un pragmatista che si ispirava ai pragmatisti classici americani dewey e james sono molto divertenti con i suoi pezzi in cui gioca con i no dice sempre devo tutto a questi qua io sto solo mettendo in ordine ed era però anche un uomo molto di sinistra anche per ragioni di famiglia una famiglia trotskista cose di questo tipo a si definiva un illuminista liberale classico allora io volevo chiedere adriano da un lato un po' cosa pensa di del punto di vista del rorti il quale molti associano a mio avviso erroneamente anche perché lui è molto esplicitamente detto no mi dispiace non c'entrò niente non è vero e io concordo molti però associano erroneamente all'idea di non c'è la verità va tutto bene tutto un punto di vista di narrative per cui non si può non si può decidere mai assolutamente niente ed è tutto assolutamente equivalente e quindi volevo sapere da lui cosa ne pensa di questo in generale poi volevo se adriano ne ha voglia andare un po più a fondo su questa questione del pragmatismo come metodo diciamo così di come metodo epistemologico un metodo per valutare ciò che vale la pena di dire ciò che non vale la pena di dire ciò che è vero ciò che è falso ciò che accettiamo e ciò che buttiamo via però tanto prima vorrei sentire la sua idea generale del ruolo di costui ma la sua idea generale che sarebbe la mia è abbastanza semplice il personaggio era un personaggio non dei più facili è un signore nato nel 30 mi sembra nel 31 è morto meno di vent'anni fa sarà 12 15 anni fa massimo perché era abbastanza era parecchio malato quando era giovane è stato educato molto in scuole d'elite ed è stato una delle delle punte delle discussioni che c'erano a quell'epoca lui era come dire con il quainismo più puro cioè quain che probabilmente è stato un po il ruolo che non so ha avuto non so chi san paolo per i cristiani è quello che ha un po inventato la filosofia americana del ventesimo non primo ed è una cosa particolare ma insomma il suo monumento di gloria a parte delle cose abbastanza tecniche e questa abolizione delle distinzioni che erano classiche tra il sintetico e l'analitico che erano rimasti in piedi attraverso Kant e attraverso tanti altri rorti diventa abbastanza famoso in filosofia perché uno dei più violenti sostenitori del cosiddetto eliminazionismo o che le forme concrete del materialismo devono avere per conseguenza che semplicemente i famosi predicati mentali di tipo avere fame avere male alla schiena o quello che vi pare a voi sono da eliminare sono l'effetto di un bizzarro inganno quasi linguistico tradotto no non c'è la fame c'è lo stato neurale 67 69 barra 4 che chiamiamo fame però sì sì ma non ha importanza puoi chiamarlo quello che vuoi non c'è cioè la fame in quanto predicato non c'è che tu lo puoi chiamare anche giovane battista non ha importanza è eliminativista in questo senso nel senso che non c'è bisogno nella teoria di quella cosa che chiamiamo mente di avere un concetto una nozione o se volete un sistema una teoria che riguarda la mente la teoria che allo stesso tempo necessaria e sufficiente è la teoria di quello che fa il tuo cervello e il cervello di qualcun altro comunque queste sono sono all'inizio sono le stesse posizioni che a fai a band che avrà poi la coppia church land e tanti tanti altri nelle versioni più sofisticate sono le cose che trovate in dandana quando poi diventa una vera celebrità continentale sto parlando ora degli stati uniti è l'autore di una di un libro molto grosso che si chiama la svolta linguistica che ha avuto un successo straordinario perché era la prima volta che qualcuno diceva c'è una forma di filosofia che in qualche modo è diversa da tutte le precedenti sia dal trascendentalismo classico che dal materialismo classico che dalla filosofia cosiddetta linguaggio comune credo che ci sia ancora in giro in quel periodo lui diventa uno uno dei maggiorenti di princeton del dipartimento di filosofia di princeton che a quell'epoca era sempre il numero uno e scrive questo libro che fa tante onde filosofia e lo specchio della natura che è un attacco violento all'idea che è un'idea di ordine epistemologico se volete che quel tipo di cosa che noi chiamiamo mente pensiero giudizio sia una rappresentazione lui è sempre stato questo sì dall'inizio alla fine un anti rappresentazione lista qualsiasi posizione voi prendiate sull'esistenza o meno della mente questa roba qua chiamatela come volete non rappresenta niente perché non c'è niente da rappresentare questa era l'idea dello specchio della natura è una metafora che entra in molti che trovate spessissimo in spinosa che trovate trovate in che trovate in descart che uno dei tanti quando gli viene posto questo problema lui risponde che il suo è un tentativo sostanzialmente decostruttivo cioè vuole mostrare che la caccia per la cosiddetta conoscenza è una caccia confusa nel senso che è letteralmente mal guidata è proprio misguided cioè manca il bersaglio perché non ha le giuste istruzioni e lì appunto vengono queste obiezioni che saltano fuori molto violente ma scusi allora cosa facciamo quando ci occupiamo di questa cosa che chiamiamo l'investigare perché anche nelle tradizioni queste si veramente native americane di tipo william james tipo henry james tipo pers che è un po il fondatore di questa c'è questa cosa che è un continuo a rovellarsi su che cosa sia che facciamo quando investighiamo pers che era quello si era veramente un genio un po bizzarro era uno che investigava di tutto cioè faceva l'astronomo di professione ha scritto veramente 60 milioni di pagine che non ha mai raccolto a nessuna parte però inventa questo tipo di considerazioni che sono molto particolari insieme a due o tre cose di logica che sono rimaste alcune sono ancora le leggi diverse rorti risponde e arrivo al punto finale almeno di questo che lui risponde a questa cosa con un atteggiamento pragmatista ripeto non fatevi confusione è facile farlo il pragmatista non è uno che come dire risolve le cose un po male in modo grossolano il pragmatista è uno che si pone come standard epistemologico ed è un po uno scherzo è vero quello che serve ora servire una nozione naturalmente ambigua ma serve a cosa e la loro risposta suggerire è vero ciò che funziona no perché funzionare non vuol dire nulla cioè voglio dire perché non funziona se io ho l'impressione che dicesse proprio se funziona ma comunque no no ma funziona per loro è un termine tecnico un termine utilitarista per loro funzionare vuol dire provare a ridurre il dolore e aumentare la prosperità del genere d'accordo questa è la il senso che viene usato qui questo viene 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 poi funziona perché mi serve raggiungere il proposito che è quello di stare meglio diciamo è subserviente all'idea che il proposito è letteralmente aumentare la prosperità e la felicità ridurre la pena e il dolore questo è la nozione di servire che in piedi quello che funziona e che serve a questa cosa quello che non serve a questa cosa o è è appunto mal diretto misdiretto oppure è fasullo in questo libro ultimo le lezioni spagnole rorti fa una cosa che è poco nelle mie corde dal punto di vista stilistico soprattutto ed è una di quelle che appunto chiamava le grandi narrazioni per lui questa nozione di pragmatismo è lo stadio attuale due volte usa esattamente questa questa fraseologia della maturazione dell'umanità cosa vuol dire maturazione dell'umanità c'è un saggio famoso di manuel kant che parla appunto di cosa sia essere illuminati essere illuminati sostanzialmente scuoterti di dosso idea che esista una specie di autorità che fosse essa reale nel senso del re non non di realtà nel senso proprio di del monarca dell'imperatore di prussia o che ci fosse dio per cui anche moralmente tu potevi benissimo essere cristiano però dovevi essere cristiano razionalmente cioè doveva avere sufficiente batterie argomentative per dire che bisogna apporgere l'altra guancia e amare il proprio nemico quello che voi intendete come essere moralmente cristiano però bisognava scaricarsi di questa autorità rorti fa un passo ulteriore se volete avanza un tipo di programma di questo genere a suo senso l'illuminismo diciamo moderno rispetto a quello classico per illuminismo classico per chi non abbia mai sentito questo tipo di cose prendete una specie di grande cocktail di di grande insalata russa di kant e di russo quello che ha illuminismo classico dall'altro lato l'illuminismo moderno questa cosa che lui chiama pragmatismo vuole scuotersi due tipi di autorità da un lato l'autorità di ordine diciamo normativo l'autorità morale per cui sì né dio né stato né servi né padroni le responsabilità umane sono responsabilità sostanzialmente autoregolative quel tipo di cosa è essere maturi naturalmente questa è una cosa processuale che va per gradi probabilmente nessuno sarà mai in grado di dire di se stesso sono maturo in quel senso sicuramente muori prima di essere maturo però questo è il percorso che in qualche modo ti racconta anche freud scompa la scomparsa del padre è questa roba qua che non ci sia dio vuol dire che nessuno deve dare in là l'orchestra l'orchestra suona per conto suo può suonare bene qui molte delle risposte sono contestuali dipende delle volte si e delle volte no però ci sono tutti dei questo è una cosa che trovate molto spesso in in james e in dewey assieme alle tendenze anarcoidi nel senso che ognuno comincia a darsi bastonate sulla schiena e a stuprarsi a vicenda ci sono grandi depositi di empatia personale cioè che non è affatto scontato che lasciato a se stesso il comportamento debba subito essere un contemporaneamente una specie di di grande cosa obesiana in cui tutti si scaniano in ogni caso il primo passo di questa cosa questi sono i due nuclei delle teorie di questo libro il primo passo è la liberazione dall'autorità le forme normative sono forme che sono puramente indipendenza dalle responsabilità umane dopo di che ognuno avrà la sua teoria specifica se queste debbano essere individuali spirituali collettive quelle che volete voi però non esiste nessuna autorità in linea di principio nemmeno che ne so lo stato i tribunali ha autorità in senso morale può benissimo avere autorità perché ci siamo messi d'accordo che è bene che ci siano le corti e le cassazioni e le procure e quant'altro però quella non è un'autorità morale in particolare non è in grado di dirti cosa sia giusto e giusto ripeto qui vuol dire quello che riduce il dolore e aumenta il benessere in senso stretto meglio meglio chiamarlo benessere probabilmente la seconda autorità da cui liberarsi qui ritorna al tema che ha molti scoccia è che secondo lui questo è l'aspetto più originale di rorti e a mio avviso anche il più debole ma è l'aspetto più originale secondo lui un'altra forma di autorità in questo senso particolare di autorità non nel senso della teoria politica ma di autorità nel senso del modo in cui si pensa è l'idea che ci sia la realtà cioè che esistano forme di cognizione chiamatemi come volete le quali sono in qualche modo maniere di contatto che la verità è quella che alcuni dei teorici la verità chiamano una corrispondenza scherzando quello che avevo accennato persino io ultimo tra gli ultimi che la frase la neve è bianca è vera è vera se solo se la neve è bianca non come frase ma come fatto come cosa che dipende dalle proprietà della neve e la neve cos'è quella roba la è la neve che la chiamate neve o appunto che la chiamate quello che vi pare a voi rugiata o insalata non fa nessuna differenza è la neve che è bianca ed è il giudizio che è vero perché in qualche modo grande questione semantica in che modo ma lasciate perdere in qualche modo questa è la corrispondenza rorti nega questa cosa direttamente questa è l'autorità che secondo lui bisogna abbandonare l'autorità dell'oggettività per lui cessa nel momento in cui le persone gli esseri umani sono due accenni agli animali nel libro ma sono veramente periferici questo è un oggetto veramente funziona praticamente solo per la specie umana poi aggiungerò un'altra cosa devo farti una domanda su questo ottima cosa vai vai finisci bisogna liberarsi dall'idea che esistano come dire forme di cognizione che o catturano o incontrano o scoprono usate il lessico che trovate più adeguato che scoprono una realtà per lui qui sto semplificando perché la cosa diventa abbastanza sofisticata quello che pensiamo sia il raggiungere la realtà per semplificare quello che spesso i commentatori qui di youtube hanno la passione di chiamare oggettivo e non oggettivo oggettivamente per lui non ha nessun particolare appiglio non ha più ripresa di quanto sia cosa ci mettiamo noi d'accordo ripeto mettersi d'accordo vuol dire trovare il metodo per cui si riduce la pena e si aumenta il benessere servire qui a un senso molto preciso questa è la parte più a mio avviso più debole e una delle critiche che rorti ha sempre cercato di evitare e alla fine l'ha accettato perché molti dicono ma guardi professor rorti questa cosa va benissimo per uno che è molto ricco maschio bianco americano nel ventesimo secolo perché per lei naturalmente è un'ottima idea che le forme del servire ripeto a ridurre il male e aumentare il benessere sono tali che si decidono di fronte al cammino bevendo una roba buona eccetera 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 e lui ha risposto questa è una delle parti secondo me anche belle di rorti perché era molto onesto e lui ha risposto sì è vero sono americano e sono un liberale americano molte di queste forme di maturazione veramente dipendono della culturazione che è un fenomeno proprio local provinciale non deve essere individuale nel senso che riguarda Richard Rorti però certo riguarda un ambiente molto molto ristretto questo è un mutamento notevole perché una delle grandi osperanze utopie dipende da come la giudicate certamente del primo illuminismo era che certe forme di razionalità fossero universali in senso stretto cioè che chiunque fosse alto basso femmina maschio bello brutto quello anche ricco povero che conterà molto era in grado di maturare in questo senso che ho specificato mi fermo perché è meglio che interloquisci ti hanno tolto il microfono no 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 mi hanno tolto il microfono datemi un secondo dimmi perfetto no no scusate c'era Manuel che mi diceva i piani della sua giornata perché dovevamo fare una cosa su un paper su cui stiamo lavorando assieme ecco questo si è arrivato al punto allora torniamo un attimo indietro il ragionamento di Rorti in quasi tutti i suoi iscritti devo dire anche in the mirror of nature ha questa particolare capacità di essere molto convincente te lo leggo dal lato mio perché mi ha interessato sin da molti anni fa di essere molto convincente quando addiveniamo alle questioni che hanno a che fare con l'interazione sociale ovviamente l'etica ovviamente i principi della politica dell'economia di come distribuiamo questo e quello e così andando dal punto di vista diciamo così delle classificazioni che devono pure avere un senso un giorno forse mi aiuterai le classificazioni di ciò a cui gli esseri umani pensano a tutti i temi su cui le scienze umane e le cosiddette scienze sociali inclusa la psicologia fino a un certo punto dibattono da secula a seculorum poi lì proprio con la psicologia comincia a entrare nella zona di confine nella grigia zona di confine fra un campo e l'altro tu prima giustamente hai detto non è che esista la fame perlomeno dal punto di vista della comprensione di ciò che accade è inutile che io dica che io ho fame perché quella frase è quello che ho cosa dove che roba è la fame no c'è uno stato mentale mio di un certo tipo che mi provoca una certa sensazione che ho classificato come fame e giustamente ho detto sì Michele potrei classificarla come cprimerlo stessa roba il punto è che lo stato mentale quello lì è mentale nel senso di qua e ti provoca certe sensazioni che di nuovo sai come funzionano e via così bene perfetto allora quella roba lì è la zona di confine in cui una una forma del parlare o tanta fame o poca fame o sete in cui possiamo o voglia di in cui possiamo ancora stare che viene analizzata con gli strumenti classi delle scienze sociali trasborda il macchinario moderno della neuroscienza trasborda e passa il confine e dice no no aspetta un attimo io in realtà so cosa sta succedendo lo misuro lo vedo ci sono certe per esempio l'utilità a me piace tantissimo l'ho citato spesso il lavoro di Camillo Padova Schioppa che con le buone scimmie gli apre la scatola cranica e gli vede quando gli mostra la banana che felicità provano ed è una certa distribuzione di cariche elettriche nei neuroni delle scimmie ecco quando entriamo lì quando entriamo lì il ragionamento rortiano mi sembra diventare un po' vacuo e una forma di nominalismo perché lì certo che la rappresentazione modellistica che il Padova Schioppa per dirne uno poverino speriamo che Camillo non se la prenda insomma che il collega Andy fa ecco cambiamo persona parliamo di uno più anonimo no degli stati mitocondriali è un mirror ma è un mirror che funziona nel senso che è un modello mi dice come toccare certe cose del mitocondrio e di ottenere certi risultati quello non è una questione che risolviamo discutendo fra gentleman fumando un sivero e bevendo la gavulli quella è una questione che risolviamo fra ladies and gentleman di ogni tipo andando in laboratorio e seguendo certe procedure le quali e qui rinasce il punto pragmatico assista alla Dewey appunto che mi convince le quali procedure poi alla fine decidono di fermarsi oggi poi ricominciano domani va benissimo quando raggiungono un punto in cui dico sì sta roba funziona nel senso che ti dicevo prima nel senso che mi permette di ottenere quello che pensavo ottenere e quello ottenuto poi mi serve mi è utile ecco qui in questo secondo terreno l'argomento nordiano mi lascia così un po' paralizzato l'argomento orortiano che ha naturalmente una derivazione nominalista scusate una cosa per lasciare che ti interromo allora ragazzi oggi parliamo di rorti non di orsini non della signora tale so che avrete tanta voglia potrebbe divertire sia di me che quest'ora avessero la capacità di dibattere con noi ma se lo sapete benissimo non lo faranno mai perché sono dei chiacchieroni quindi non tormentatemi con 72 messaggi su cosa penso del contratto orsini ho già dato ho già dato io ho già dato anche Adriano non è che dobbiamo ripetere le battute tutte le volte poi invece cosa mi parte molti chiedono le bibliografie io capisco però guardate lo ripeto per la 74esima volta a volte si trova il tempo per mettere la bibliografia vi posso garantire che tutte le volte che ho 5 minuti e vado in rete a leggere i vostri messaggi e ho sotto mano la bibliografia lo metto però non aspettatevi che la mettiamo sistematicamente perché già fare questo richiede un po' di tempo cominciare a fare le bibliografie serie e pensate richiede delle mezz'ore però lo ripeto per l'ennesima volta siete tutti figli e figli dell'internet ci sono delle cose in rete che vi permettono rapidamente senza chiedere a Boldrin a Palma a 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 si chiama google e wikipedia se voi andate adesso la vado a cercare se voi andate sulla pagina anche italiana di wikipedia al nome richard roti troverete tutta la bibliografia essenziale sono davvero fatte bene io non so cosa devi sono davvero fatte bene sono un grande regalo di colleghi di persone che sanno le cose in particolare ripeto quella inglese quella anche quella francese abbastanza ma quella in inglese sono estremamente ben fatta ci sono delle ricezioni e contengono e non è difficile uno scrive wikipedia richard roti e trovo e troverete sia i titoli e i link ai suoi testi sia i riassunti dei suoi testi sia brevi indicazioni a critiche e discussioni poi girate un po' di più troverete la bibliografia insomma le nozioni di base le trovate vale per rorti come vale per pierce vale per pierce come vale per qualsiasi argomento per cript che per mio nonno ecco non vale per il professore orsini ma il pensiero orsini non è ancora stato come dire elevato a quel livello un giorno lo sarà un giorno lo sarà e quindi ma ci sta lavorando piazza pulita come cazzo si chiama il programma scandalista se nel caso che vi serva veramente in termini bibliografici è molto facile perché la pagina che si chiama semplicemente richard roti è il suo nome r-o-r-t-y si l'ho scritto due o tre volte nel chat tra l'altro se voi guardate SCP che vuol dire Stanford Encyclopedia of Philosophy che è completamente lì già andate sul difficile c'è anche Adriano ha dato mille volte non ci sono madonne l'ultima parte di questa pagina è solo una lista bibliografica di tutto quello che Rorti ha pubblicato che è stato molto tradotto anche in italiano sia da Gianni Vattimo che da Aldo Gargani per cui non è una cosa difficile ecco guardate suppongo che anche se mettete Duck Duck o Google scrivete solo Richard Rorti bibliografia ve la dà dunque esiste un aspetto nominalista di questa posizione sì senza dubbio alcuno Rorti è uno che di fronte a questa cosa cioè di fronte a questa cosa che c'è un modello ad esempio dei neuroni che sono la corrispondenza fra quello che noi abbiamo osservato nella scimmia eccetera lui risponde che c'è un'inferenza illegittima che quando noi pensiamo che quella sia la verità attenzione per cortesia questa non è la verità con la V maiuscola non è un atteggiamento come dire di religione ortodossa la verità è questa roba qua che sia vero che ad esempio quello che nel linguaggio comune nel linguaggio ordinario viene chiamato aver fame sia lo stato neurale 175 fk questa affermazione non si può fare mentre lo stato 175 fk è quello che noi correlliamo con i metodi disponibili nei laboratori quello che volete voi nella statigrafia in tante altre cose questo è secondo lui l'accordo della micro comunità in questo caso suppongo i filosofi dello spirito della mente dello spirito e i neurologi della comunità che discute queste cose quello che Rorty fa ed è una roba insomma bisognerebbe pensarci bene io sono molto meno che convinto per la cronaca per quanto contino lui nega che questa cosa sia una cosa universale cioè non c'è un modo mettetela nel caso più estremo ecco ed è lì che mi perde capisci e beh ti perde però lì è lì e questo è veramente il pragmatismo cioè lui dice una cosa c'è due analogie secondo me molto lascia che ti dica a mio avviso va benissimo se lui mi dice per usarla e per arrivare fin qui non mi serve dover ipotizzare che sia universale che sia eterna e che sia appunto la verità con la V maiuscola mi basta arrivare al punto che qua nella mia comunità di scienziati e di persone questo sia ciò che serve o funziona insomma di questi due utilizzi della parola che abbiamo adottato oggi però non c'è alcuna ragione che io debba perché c'è una differenza fra non mi serve pensare ed affermare che sia universale e quindi lasciare aperta la vaga ipotesi che le regole neurali in altro luogo e in altro tempo possono dare rappresentazioni diverse di stati percepiti come simili anche se tutta questa frase è un po' tutta da smontare perché non vuol dire quasi niente non mi serve pensarlo però non mi serve neanche escluderlo microfono Adriano sto cercando di fare del mio meglio per dare una versione so che la parola qui è un po' anatema di una versione abbastanza oggettiva di Rorty che non che insomma di dargli il beneficio del dubbio ecco proviamo a metterla nel modo migliore pensate al ragionamento che vi suggerivo quant'era mezz'ora fa se questo stato di maturità è il rifiutare l'autorità d'accordo nei due sensi in cui abbiamo detto c'è un rifiuto dell'autorità normativa dell'autorità che detta come dire comandamenti morali e dell'autorità epistemologica cioè non c'è una realtà a cui io debba adeguarmi per dire il vero d'accordo questo è il rifiuto dell'autorità in questo senso Rorty tiene la sua parola lui è anti-autoritario nel caso che Michele Boldrin pone che è un ottimo esempio di questa situazione lui dice una volta che io con il gruppo mettetela come volete degli psicologi degli psichiatri dei neurologi e di chi insomma è competente che è quasi per definizione una piccola minoranza questo è il modo in cui ci accordiamo essere il più utile a servire quegli scopi in questo caso vogliamo occuparci di come funzionano i neuroni delle scimmie e allora studiamo tante scimmie gli guardiamo gli facciamo il tac del cervello e gli facciamo un mucchio di altre cose siamo d'accordo allora questa comunità è d'accordo Rorty dice e qui ti fermi questo è quello che va chiamato come dire il nostro accesso alla realtà il fatto che siamo messi d'accordo che quello è il miglior modo di avere un po' di più di comprensione un po' di più di spiegazione di come funziona il cervello della scimmia che come dire per assunto è quello che ci interessava Boldrin replica ma cosa esclude che questo sia universale la risposta di Rorty che è meno sciocca di quanto possa apparire è lo esclude il fatto che tu non sei in grado di convincere tutti che quella è la verità e questa non è una cosa stupida perché pensate a delle cose banali anche recenti però mettono molto in mente perché questo libro l'ultimo libro l'ho letto appunto ieri notte perché Michele mi ha chiesto e va bene perché non l'avevo letto per cui non è una critica ma pensate al caso abbastanza banale in che senso io ho prendetela bene un'obbligazione epistemica a convincere che ne so la senatrice d'amato donato non mi ricordo questi qua che hanno l'ossessione di Novax ci sono alcuni che pensano seriamente quello che volete ne sono usciti di tutti i colori ecco che ragione ho di convincere il terrapiarchista che la terra è un terrapiarchista o quello che dice che usando le chimiche mi entrano nel naso queste sono storie che naturalmente a dirle fanno un po' ridere però l'esperienza recente della fase epidemica ha mostrato che in realtà sto esagerando c'è il 20% dell'umanità che pensa veramente ma delle idiozie astrofisica cioè che nessuno al mondo ci pensa c'è un signore che nel corso di una remissione hanno scritto tutta una una pipa si chiama Tarcisi per cui è noto che c'è un complotto di rettiliani massoni il papa Hillary Clinton gli usuali sospetti davvero ti ha scritto uno così si si c'è un signor Tarcisi l'ho letto su youtube sulla trasmissione che hai fatto tu e me tu e Dio è ben noto perché lui la sa facile dirla sappiamo Hitler era buono e voleva riunificare l'impero austro-ungarico ha invaso la Polonia per liberare i milioni di tedeschi che erano nei campi di concentramento in Polonia è confuso anche geograficamente ma non ha importanza però voglio dire questi può darsi sono casi una persona privata a me demanda non rispondere mai perché fanno apposta per provocare delle risposte di ira suprema cioè inventano delle vacanze ora però nel caso dei vaccini che è leggermente più serio di questi dementi Rorty pone una domanda secondo me non stupida cosa è che dovrebbe come dire produrre sufficientemente confidence sufficienza fiducia nell'idea che io convincerò questi qua che dicono che esempio tipico che la vaccinazione dei bambini produce l'autismo e c'è un mucchio di gente che lo dice in modo completamente serio alcuni sono sì psicopatici ma non tutti sono della gente lascia che ti interrompa poi voglio dire due cose perché sono arrivate c'è come si chiama se ti mettessi il nome benedetto te che ci serve zaytnot66 che giustamente hai ricordato apple o apple apple credo sia perché è austriaco allora quentin taratella no il punto per Rorty è che non serve per funzionare e vivere avere la realtà con la r maiuscola e quindi non c'è niente che faccia parte della realtà con la r maiuscola per la sempre ragione che non c'è nell'insieme vuoto non c'è un cazzo inclusa la gravità semplicemente il qualcuno che è convinto che la gravità non esiste utilizzerà modelli di comportamento nella sua relazione col mondo fisico diversi da quelli che utilizzo io per esempio penserà di poter saltare altissimo tutte le volte che vuole poi cazzi suoi si convince appunto questo ragionamento di Rorty io lo capisco che è appena dato Adriano ed è una se ci pensate un ragionamento è il pragmatismo scientifico prodotto al suo estremo dice vabbè alla fine questo qua è convinto che la realtà nella gravità non esista si comporterà altrimenti starà poi a lui con i suoi criteri di valutazione di utilità decidere se questo modello del mondo questa lettura del mondo che ha gli funziona bene nel senso che utilizzo io la parola funziona serve oppure no è vero specialmente per i novax se ci pensate la questione dei novax è un buon esempio di rortismo il novax novax che si prende il il covid e magari sta anche male gli viene una cosa alla boldrina come spiega a se stesso ciò che avviene no avrà dei modelli di spiegazione di ciò che è in corso nel suo corpo eccetera che se lo mantengono nella convinzione che il covid non esiste riterrà più piacevoli a se stesso magari perché è un forte problema a Danning Kruger per cui non riesce assolutamente a pensare di di non aver capito delle cose che gli altri affermano di aver capito e questo gli darà piacere perché rimane convinto delle sue asserzioni si spiegherà il suo mal stare la sua febbre la sua polmonite come un complotto come una contingenza che non ha a che fare col vax scusate col covid e così via e spiegherà il fatto che il suo amico Gino che fa le stesse cose che fa lui tutti i giorni ed è uguale a lui e ha preso il vaccino non gli è venuta semplicemente ha avuto culo punto da questo punto di vista il ragionamento di Rorti come ce lo spiega Adriano va bene volevo fare un esempio perché appunto Zeytno dice Apple sì il libro che ho tirato fuori perché l'ho tirato fuori un po' perché l'ho preso l'anno scorso l'ho letto poi sono riuscito anche a perderlo mi sono accorto puramente nell'ultimo viaggio meno che non l'abbia lasciato a casa di Susanna credo di averlo proprio perso in aereo per cui ne ho ordinato ieri una copia dopo aver detto Adriano ne parliamo e non l'ho trovato allora mi sono scaricato un attimo fa la versione elettronica e volevo farvi vedere un pezzettino perché la parte centrale del libro infatti è una discussione praticamente fra Rorti e Habermans uno di quelli che è supporto di meno non ho mai capito che cazzo dice Habermans scrive in una maniera eccessivamente complicata insopportabile scrive troppo e con troppe parole una cosa che mi piace di Rorti che scrive parecchio ma non scrive con parole giuste Habermans invece straparla e appunto Apple e lasciate che vi faccia vedere questo piccolo passaggio che si riferisce l'ho preso un po' a caso se ne sono altri ma si riferisce a quello che Adriano ci ha appena raccontato e poi da quello infatti do la parola a Adriano ecco credo sia apparso adesso devo ingrandire però perché altrimenti non vedete ho appena scaricato e non sono molto pratico con questo perché io tendo a usare adesso vediamo se riesco a spostarlo o se mi risulterà impossibile fare quello che voglio fare perché purtroppo il passaggio che volevo mostrarti mostrarvi è ecco qua questo qua si legge my problem il mio problema ovviamente è che non ho l'opzione di allora qua pragmatisti come me non hanno alcuna maniera di dirti se ciò che che stiamo capendo come una giustificazione di una di un'affermazione come ciò che provo un'affermazione accettabile sia semplicemente una giustificazione per noi o una giustificazione period e basta cioè universale questo argomento mi colpisce in questo momento mi sembra essere semplicemente chiedermi se ho il per chiedermi di dire se il mio scalpel cazzo non mi credo come si traduce scalpel in italiano o il mio computer sono dei buoni strumenti per questo obiettivo o sono dei buoni strumenti in generale è l'analogia che lui ha proposto prima che se c'è un grandissimo chirurgo che prova a scavare un tunnel con un bisturi e dice agli altri sì esatto 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 il bisturi e allora il guardiano del campo di concentra medica ma lei è proprio cretino e il chirurgo che è un po' uno dice no ma guardi che questo è un ottimo bisturi è un eccellente strumento e naturalmente si è dimenticato che è un eccellente strumento per operare i corpi non serve assolutamente niente a penetrare il cemento armato questo è uno dei modi analogici un po' scherzosi ma non tanto di dire questa cosa quello che Rorty fa che è la parte come dire seria il suo nucleo duro lui sostiene che quello che spesso viene chiamato una verità universale non è più della giustificazione per cui lui è dispostissimo a dirti prendiamo i casi proprio esplosivi infatti la parte seguente se la guardate è molto rilevante perché come ho detto il suo argomento funziona molto bene negli argomenti nelle discussioni su topics morali qui c'è questa parte dice non c'è alcuna ragione che io possa riuscire a convincere il nazista razzista eccetera eccetera che ho ragione e anche se io capisco perfettamente ciò che lui dice e lui capisce perfettamente ciò che io dico questa è una parte piuttosto convincente al ragionamento di Rorty perché si collega a molte cose che anche con Adriano abbiamo detto già in passato alla fine c'è una costituente della mia posizione sull'argomento razzismo che ha a che fare con la mia utilità i miei interessi e i miei stati preanalitici in Rorty c'è un forte riconoscimento del fatto che i nostri valori morali e i nostri attitudini morali politiche sono definiti a stati preanalitici per cui se la soluzione non può avvenire come spesso non può avvenire per metodi analitici lui dice we may both have to reach for our guns che by the way è esattamente quello che il signor Putin ha fatto in questi giorni ed è esattamente quello che forse dovremmo fare noi non è non riuscirete a convincere l'Orsini di turno o il Putin di turno sulla base analitica della giustezza o della correttezza delle vostre proposizioni perché perché se non hanno valore universale non c'è nessuna ragione che ce l'abbiano il punto di vista di Putin esiste il problema è che il punto di vista di Putin implica uccidere voi quindi we reach for our guns o no dobbiamo parlare del no no ma io sono d'accordo lui è uno di quelli che dice ed è per questo che è stato molto criticato sia negli Stati Uniti che fuori di essere un etno suprematista cioè lui dice guardate io penso di aver ragione e penso che abbia ragione la democrazia di stile americano liberale diciamo la versione più non deve coincidere con una posizione di partito ma diciamo la versione più il generale sistema in cui abbiamo scelto il generale sistema in cui ci sono dei dissensi che esistono lui io l'ho ascoltato due volte direi ma è ovvio che abbiamo dei dissensi di fondo sull'aborto sì proprio noi i professori non sono affatto d'accordo se bisogna dare legittimità morale o addirittura sovvenzionare l'aborto o vietarlo integralmente e così via però lui diceva questo sistema è quello che ha acculturato me e le due volte che l'ho ascoltato faccia a faccia lui era molto onesto in questo non c'è nessun senso in cui io debba dire all'uomo di Neandertal o uno che abita in Arabia Saudita adesso che deve lui vivere in questo modo nel senso che quel senso di dovere è un senso secondo lui falso un senso appunto misguided misdiretto cioè che tende semplicemente a confondere le acque ci possono essere degli argomenti sì nei casi estremi la risposta è no nel senso che è abbastanza ridicolo che vada Adriano Palma a spiegare a Hitler perché non bisogna essere antisemiti e se non vi piace questa cosa spiegare a Putin perché non bisogna essere anti-ucraini però su questo io sono completamente d'accordo la parte su cui io avrei più dubbi è la seguente Rorty in questo ha un grande pregio è uno serio e coerente per lui anche nei casi che hanno molto poco a che fare come dire con l'etno superiorità di certi sistemi politici superiorità qui vuol dire ci sono delle cose che a giudizio di Rorty a giudizio anche di altri sono preferibili cioè grosso modo le scelte all'ingrosso che sono state fatte in un gruppo di paesi che guarda a caso coincide con i paesi democratici Giappone Europa Canada Stati Uniti e molti altri anche l'Australia non fatemi tutta la lista sì ne ho dimenticati alcuni un po' ci siamo capiti sono delle cose che servono meglio ripeto la riduzione del male e la possibilità di dare a più persone forme di prosperità e di benessere che spesso vengono negati in altri sistemi punto questo è l'unico come dire l'unica pretesa di superiorità che io possa convincere quello che è ad esempio un fedele serio islamico in Arabia Saudita tutto ciò secondo Rorty è una specie di utopia di autorità cioè che ci sia una specie come si dice nel pugilato una specie di gancio supremo gancio nel senso di pugno non nel senso di gancio che si attacca al muro che atterra tutte le obiezioni cioè che sia una specie di strumento universale ora lui ha la coerenza e in questo c'è tanto da sollevare il cappello e salutarlo di dire che questo vale per tutto devo intendersi fino a molto poco tempo fa fino a circa 30 anni fa non sapevamo se l'ultimo teorema di Fermat era vero o falso adesso sappiamo che è vero c'è una dimostrazione ora molti pensano che prima eravamo in uno stato in cui la nostra giustificazione epistemica era incerta cioè non sapevamo cosa dire c'erano tre possibilità tre alternative chiaramente tre opzioni possibili che fosse indecidibile che fosse vero che fosse falso c'è un signore peraltro nella stessa città dove ha vissuto Rorty per tanto tempo Andrew Wiles che ha dimostrato che è vero ora notate ho usato la parola vera apposta qui l'ho fatto per provocarvi è questo un caso di verità o no secondo Rorty la verità lasciate perdere se è la V minuscola o maiuscola non è più ampia della giustificazione è un caso in cui linea rortiana primo non ci sono verità matematiche nel senso che non c'è una verità della matematica non è che posso andare a guardare una serie infinita di numeri e decidere che effettivamente Fermat buonanima aveva ragione uno due che cosa mi giustifica nel crederlo la prova dell'ultimo teorema di Fermat è affascinante perché la prima versione era di 800 pagine e c'era anche uno sbaglio anche per capire lo sbaglio l'hanno capito 3-4 persone al mondo e tuttora c'è una specie di industria di piccola e media industria della semplificazione è come la piccola media industria del nord est dell'Italia che semplifica questo teorema perché? perché è difficilissimo da capire quasi tutti certo tutti quelli che consulto io mi hanno detto no hai tutte le ragioni per fidarti però notate come sia bizzarra questa forma di giustificazione mi fido sulla base di un principio di deferenza alla matematica che in questo senso è una comunità di chi fa matematica non è che ci sia la matematica come una specie di ente astratto come la bontà la bellezza o queste cose qua o la giustizia c'è la matematica che è un gruppo di persone certo molto grande non sono due o tre però sono anche lì il 5% della specie umana di quel 5% quelli che maneggiano le curve di Tamayama sono probabilmente 500 sul pianeta perché forse meno meno ancora 250 la statistica non la conosco però è un numero molto più sono molte più le persone che maneggiano bene le regole del cricket di chi maneggia le curve in quel senso lì ma molte di meno eppure io e qui Rorty ha un punto non stupido a mio avviso io ho una giustificazione per pensare che quel risultato sia la verità qual è il mio senso di deferenza una enorme come dire fiducia istituzionale che la grande maggioranza dei dipartimenti di matematica continua a produrre risultati veri però lui insiste questo è esattamente quello che ti ho detto quello che tu chiami verità è il tuo modo che lui chiama parrocchial che in inglese non vuol dire esattamente di parrocchia vuol dire provinciale local provinciale cioè il modo in cui nel tuo provincialismo ancora di più dal punto di vista che dal punto di vista geografico proprio dal punto di vista mentale dal tuo provincialismo mentale prendi per essere una buona giustificazione cosa giustifica che tu credi ai teoremi che credi a molti matemati alcuni ti hanno insegnato come provarli è verissimo sono una minoranza ifima dei teoremi conosciuti quelli di cui io conosco la prova ce n'è una marea che mi hanno detto che è così e me l'ha detto poi neanche un grande genio matematico me l'ha detto uno e dice guarda se vai a guardare è così perché è così si chiama capito cipino cacafumi robertelli e chi è ma è un risultato del 1899 che viene usato raramente però è quello e io dico certo allora usiamo cipirino su questo Rorty è un punto forte la domanda che rimane e secondo lui questa cosa non è universabilizzabile cioè non ho un metodo per convincere un altro a tenere lo stesso di rapporto diciamo fiduciario se capite cosa vuol dire cioè se io dovessi convincere uno che dice no la terra è piata e dice ma guarda c'è tutta la comunità astrofisica che vuol dire ancora qui molti di più dei matematici ma è una marea di gente tra telescopi viaggi spaziali gente che va sulla navicella e se questo mi dice no c'è un gigantesco complotto le fotografie sono un trucco non è vero che qualcuno è andato sulla luna non è vero che c'è un robot su Marte e così via più che ripetere la mia fiducia nel senso che io naturalmente non sono messo su Marte la mia fiducia è che non vedo nessun complotto c'è della gente che si occupa di robot che hanno andato su Marte c'erano degli altri che a sforzi notevoli sono andati e hanno camminato un po' sulla luna ma a parte ripeterlo ed è per questo che Rorti ha secondo me beccato sia una corda profonda che una corda pericolosa secondo lui molta dell'attività che di solito chiamiamo filosofica è attività retorica nel senso proprio cioè di inventare dei raffinamenti successivi come metra dell'arte della persuasione cioè pensateci in un modo banale si può affinare come si mostra che ne so a quello dei Novax che ha torto ma affinare qui vuol dire veramente esistono metodi che servano e in questo caso servire vuol dire che migliorino le nostre capacità della persuasione di questo qui fermati un attimo proviamo a discutere questa cosa qua di Joxen no Adriano ha il mio microfono allora cosa dice Joxen come vedete dice vabbè sta roba di fermata è complicatissima quindi bisogna farci appello alla deferenza l'interno della lampadina invece quando lo schiaccio fa arrivare la corrente passa ok eccetera eccetera quindi quindi allora perché quella non è la prova sufficiente non è l'argomento sufficiente per dimostrare che le equazioni di Maxwell sono universali no non è sufficiente e le spiego perché è il punto di vista di Rorty che si può non condividere lui pensa che una delle eredità malefiche diciamo in questo senso un po' esteso di illuminismo non è esattamente quello che aveva in testa Diderot e Kant ma lasciamo perdere diamogli per buono la terminologia perché sennò le discussioni diventano troppo lunghe in questo senso esteso lui dice guardi naturalmente anch'io premo il bottone e si accendono le lampadine ma se uno mi rispondesse c'è c'è uno spirito demoniaco che si annida dentro gli edifici dell'Enel e che quando io spingo il bottone riceve telepaticamente le mie volontà e capisce che mi sono scocciato di essere al buio la teoria è ovviamente idiota ma lo faccio solo per rendere chiaro quale sia la questione supponga che lei debba convincere questo che l'interruttore e l'accensione della lampadina sia sufficiente a dire no guardi la risposta sono le equazioni di Maxwell e quell'altro ti risponde no la risposta è che il demone è davvero invisibile come peraltro avevamo previsto cioè i demoni dentro l'Enel che sono appunto demoni e quindi invisibili telepaticamente controllano ogni volta che uno vuole questa cosa difatti ogni tanto quando si scocciano la lampadina non si accende ora lo so la risposta naturale è ma questo è cretino e invece no a mio avviso non è uno la risposta naturale è questo è cretino dopodiché non implica che abbia scoperto la verità assoluta ma ripeto dal punto di vista di Rorty questa roba della verità assoluta come dire disgiunta dai meccanismi di giustificazione semplicemente non esiste non è che se non ce l'ho io ce l'ha un'altra persona e se non ce l'ha un'altra persona ce l'ha un terzo ignoto e così via il caso che lui mette in modo molto chiaro dice quando voi pensate seriamente a questa dottrina capite subito perché una mentalità religiosa potrebbe sempre rispondere naturalmente siamo tutti ignoranti perché siamo no aspetta c'è un altro qua Danilo Leto no non cogliete il punto questo rispondo io popper is the way vabbè ognuno c'è le sue certezze il diavolo invisibile non è falsificare l'equazione di Maxwell sì certo ma questo non implica che il diavolo invisibile non sia vero è banale il fatto che sia o non sia falsificabile che poi insomma è una nozione che andrebbe aggiustata non importa comunque sì esistono delle proposizioni falsificabili bisogna restringerle molto ma si riesce a trovarle e so il fatto che siano falsificabili implica solo che possiamo falsificarle non implica che un'altra proposizione che falsificabile non è non possa essere assolutamente vera questo non vuol dire sia chiaro ritornare a Freud Marx i metafisici però questo implica che la discussione su perché le essenze per dire non sono utili si fa a questo livello qua a quello di è utile il concetto di essenza per raggiungere l'obiettivo di cui ho bisogno sì no non so ci mettiamo davanti al problema concreto questo suggerisce Rorty e questo molto umilmente che lo suggeriscano anche Palma e Boldrina e vediamo se il metodo il modello la nozione la frase sull'esistenza dell'essenza dell'occhiale mi è utile per scegliere che occhiali mettermi se non mi è utile butto via non mi so e ripeto ci aggiungerebbe Rorty sono d'accordo questa è la scelta che faccio io nel senso che se un signore ritiene che lui gli occhiali li scegli in base all'essenza e l'essenza degli occhiali lui la trova che cazzo ne so non lo so in una maniera strana grattandoli ebbene sia si sceglierà gli occhiali grattandoli a pensare in questo modo lasciate perdere Popper perché ci sono due angoli a mio avviso utili purtroppo io me ne dovrò andare fra pochi minuti però se volete ci si può ritornare ci sono due angoli di approccio uno che è un po' l'ispirazione vera di Popper è che ci sia una vera simmetria fra il falso e il vero cioè che il vero in qualche senso sia ineffabile irraggiungibile le cose che diceva Popper è approssimabile ma mai potrai dire che una roba è vera mentre Popper suggerisce è molto più naturale capire che delle affermazioni possono essere false nei casi buoni quelli che lui chiamava i casi scientifici sai perfino cosa sia il falsificatore tradotto che esperienza bisognerebbe fare vederne l'esito e decidere se era falsa o no l'affermazione a cui siamo partiti Rorty propone un angolo assai diverso lui dice se è vero che per me l'umanità matura è quella che rifiuto l'autorità ogni volta che non esista un modo di universalizzare in questo senso cioè che tutti siano come dire ipso facto convinti e ripeto prendete l'esempio del Novax se vi va il mio esempio sull'Enel il diavolo è ovviamente scherzoso ma voglio dire prendete un che ne so l'influenza si chiama influenza perché tutti hanno pensato pare per 4.000 anni che si prendesse l'influenza perché c'era l'influenza demonica cioè che uno era esposto agli spiriti maligni e che andando non so in certi giorni in certi posti o vicino a certi altri ti influenzasse si chiama influenza solo per quello non sapevano dei non riuscivano a ragionare a virus non aveva nessuna idea che esistero microrganismi che 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 adriano non è passata di moda c'erano quelli che pensavano che andando per strada incrociandoci venivi influenzato dalla covid e in ogni caso guardate adesso voglio dire naturalmente stai parlando di 4.000 anni fa non è vero io ho due amici veri che hanno detto io vicino a uno con l'AIDS neanche non ci vado ma devi avere la trasfusione devi baciarlo tantissimi tantissimi nei due soli davvero sei fortunato due mi hanno detto no guarda se so che c'è uno con l'AIDS nella stanza vado via mi scuso in anticipo con tutti non ce l'ho con nessuno ma non me la sento di prendere il rischio quando tutti gli hanno spiegato che il rischio era ripeto la trasfusione i baci profondi il rapporto sessuale gli ha detto non è vero prega la sega si si guarda voi fate i furbi perché sapete più fisiologia a meno io non ci credo è esattamente come gli appestati però voglio dire il problema che Rohr ti pone che non è banale è Palma se tu credi davvero che questa sua cosiddetta in questo caso verità medica diciamo che AIDS è trasmissibile per un numero molto limitato di vie e fine dei giochi se tu pensi che questa sia universale in che senso quello dovrebbe essere obbligato da cosa? dalla razionalità essere d'accordo provate a porvi questa domanda che cosa sia che obbliga quello perché non è autocontraddittorio pensare che essere vicino a uno con AIDS ti possa infettare non c'è una contraddizione nel caso di Covid è sufficiente essere uno vicino quell'altro respirava diciamo a meno di tre metri da me non lo so mettetela come volete voi e ho preso Covid chi te l'ha detto che AIDS non è così? allora la spiegazione è complicata no perché HIV è un tipo diverso di virus bla 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 e quell'altro dice guarda bla 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 ma non mi hai convinto il rischio è alto se fosse un problema come dire intellettuale se ha ragione Palma Sutherman o se ha ragione Jogzen numero 44 sostanzialmente non mi fa né caldo né freddo AIDS che serve appunto il mio scopo fondamentale di sfuggire il male e aumentare il mio il mio benessere cioè essere vivo ti saluto i tuoi argomenti sono non solo deboli ma stupidi sono poco convincenti perché sono stupidi e lì devo dire che Rorti ha un punto forte nel senso che non è banale la domanda in che senso questo sia universale dopodiché io mi scuso ma devo veramente andare via ci fermiamo qui due osservazioni solo ringrazio Adriano andremo avanti è di molta attualità la ragione che voglio tirare fuori perché lo ritengo di grandissima attualità in particolare per la frase che vi ho cercato prima appunto sulle questioni dell'Occidente ci torneremo a sì Muccino ho messo lì perché mi sembra un contributo una maniera di di leggere è vero infatti molte persone la scienza la usano solo quando gli fa comodo i rapporti di molti con la scienza ma di tutti di io stesso sono di tipo utilitaristico vi sono proposizioni scientifiche con le quali ho difficoltà di interagire e lo ammetto ora per il lavoro che faccio devo anche sforzarmi di fare altrimenti e la ragione è che ne ricevo utilità nello sforzarmi quindi lo faccio ma è palese da quello che sta avvenendo e che è avvenuto col covid con mille altre cose con il riscaldamento globale che la relazione degli esseri umani con la scienza sono del tipo utilitaristico e pragmatico e come dice giustamente Sant'Agostino che vedo questo signore si è scelto il nome giusto è impossibile dimostrare che qualcosa non ci sia non scordiamocelo mai e quindi il problema non è perdere tempo a spiegare a quelli che chiedono credono le scie chimiche che le scie chimiche non ci sono è semplicemente o mandarli a fare il culo nel dibattito e vincere il dibattito pubblico sociale oppure è il più dal punto di vista tuo convincere te stesso che l'esistenza delle scie chimiche non ti serve perché non spiega niente e non aumenta la tua utilità o benessere o qualità della vita con gli altri Adriano carissimo buon pomeriggio buona serata a tutti voi rimanete qua che vi porto buon weekend noi ci sentiremo in privato questa cosa si può proseguire perché ci sono altri angoli da considerare grazie e buona serata ciao 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 buona serata buona serata